mani a tutti ragazzi benvenuti in questa nuova puntata della bibliclast allora sì d'accordo siamo arrivati qua però per finire questa mappa ci manca soltanto una cosa le le non mi viene il nome quindi sto prendendo tempo facendo l'idiota le 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 subquest e quindi perché sono tornato qua come un imbecille ma sta registrando no perché vedo tutto stranamente fluido incroyable sembra anche che abbia una render distant desente comunque questo video fungerà anche da informazioni di servizio perché nel blog è stato va bene va bene bravo no non serve a nulla c'è un modo per buttare tutto lì poi vado a metterlo vado a metterlo non è vero non lo farò mai però sì vado a metterlo fungerà da informazioni di servizio perché come un idiota beh i diamanti no piena la cesta pazienza diamanti me li tengo quel cazzo tornerà a metterlo fatene certi voi ah no non va sei tanto inutile vabbè un'altra cesta la troverò uscita dunque vi ho fatto vedere lo spoiler della nuova serie su minecraft l'unico problema è che non so quando potrò farlo uscire perché mi manca è arrivata una perché davvero 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 perché non ci credo comunque vi stavo dicendo della nuova serie del perché non so se uscirà perché sì d'accordo mi sono fatto la paypal sì il conto paypal il problema sono due prima di tutto che è intestato a mio padre mio padre aveva già un conto paypal perché i minorenni non possono averlo e quindi gnec perché in teoria ci può avere solo un conto paypal alla persona e spero che quello di mio padre sia premier almeno posso stare tranquillo non lo so non lo so spero di non perdere i soldi che devo anche caricarci sopra e non so come fare perché da bonifico bancario roba del genere o metto a vendere cose elettroniche su ebay o non so cosa fare spero in un colpo di fortuna di vincere la lotteria anche se ne dubito perché pagano in lingotti d'oro che non posso mettere su paypal ma quindi andiamo a fare le subquest che sono dall'altra parte fotte sega io nuoto fino alla subquest perché io sono trasgressivo che mi sa che un altro messaggio mi orca miseria quanti siamo alle 8 perfetto si entra alle 8 domani a scuola che non voglio andarci io voglio ciao amico ciao cosa mi offri vuommami su serio sei scemo tu è scemo forse subquest d'accordo emm please please ecco perché non sto giocando con un mosso ehi 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 ciao Larry ero qui a godermi il panorama e mi è caduto in mare il mio prezioso tesoro e mi è caduto in mare il mio prezioso tesoro vabbè a me è caduto in mare il tesoro prezioso di me quindi in teoria potrebbe essere anche giusto se riuscite a trovarlo avrei una bellissima sorpresa per te il mio tesoro è un lingotto di ferro che ci tramandiamo da generazione ed è molto importante per la mia famiglia basta sti messaggi di merda cercalo ti prego e questo non è neanche sul gruppo oh mio dio perché mi scrive la gente perché devono scrivermi sto così bene da forever alone a parlare da solo comunque basta spero siano finiti i messaggi di whatsapp suppongo sia qui perché sennò dispone dai please dai please i know grotta sottomarina so and a parkour is seriously stop no dai sei serio o cosi sì sì d'accordo oh mio dio mi ritengo molto brutta una cattiva persona davvero tanto comunque comunque non ho barato affatto affatto già dovevo dire un'altra cosa assigli per quindi non so quando uscirà perché devo metterci i soldi devo fare le cose varie per comprare il gioco quindi se qualcuno di voi me lo regala tramite chi io gli vorrò moltissimo bene però vi ho già chiesto di regalarmi far 3 4 quindi dubito che qualcuno di voi abbia tutti questi soldi da spendere guarda se volete vi do anche la mail per farmi un bonifico diretto su paypal mi va benissimo ovviamente scherzo anche se in effetti non mi dispiacerebbe affatto my friend where I must go sir basta un altro ah un altro domani alle nove perché 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 mi dici questo sì però tu mi avresti dovuto parlare una cosa col ferro e mo ah fine sa questo in un altro di libro perfetto leggi solo quando è finito lo sa quest'uno perfetto grazie per aver ritrovato quel lingotto ci sarò eternamente riconoscente oh che fortuna hai trovato anche un'armatura direi che come direi direi che quella è una buona ricompensa per i tuoi servici grazie ancora servi già però il lingotto me lo tengo io no scherzo te lo do no non te lo do perché mi stai sulle palle perfetto manca la seconda sub quest che non mi ricordo dov'è là temo che ci dovremmo rivedere là probabile possibile purtroppo sì no fin là lassù vaffanculo ci rivediamo là bene arrivati qui sì siamo giunti finalmente io ne approfitto per andare a prendere anche il diamantuccio là sopra che mi ero dimenticato come un idiota sperando di non cadere dai per favore grazie ti lovo quindi io domani non so che ho rientrato a scuola ma non importa perché continuano a inviare messaggi poi sì sì tra gente che scrive a me tra gente che scrive sul gruppo non si capisce più nulla vi do ragione ecco ecco questo questo è a me perfetto grazie siete utili ragazzi non voglio neanche leggere cosa c'è scritto buono so good dan 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 so good pam pam so good na 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 perfetto se gli chiedete perché sono di questi diamanti perché ve l'avevo fatto anche vedere in una scena del del coso quindi io adesso ho 500 messaggi da recuperare su whatsapp perché poi sono tre persone che mi hanno scritto ehi debe ci rivediamo domani sei contento ehi sono tre mesi ehi quelli che non ho incontrato quest'estate che gioia penserete vero che gioia incontrare i tuoi vecchi amici dell'anno ehi potevo farne a meno a sociale ma se io adesso vado lì ah no non c'è un altro libro perché prima me l'ho dato senti 5 6 perfetto oh salve giambate ovviamente la stessa voce di quello di prima potrebbe aiutarmi qui in giro ho perso alcune pepite d'oro per la precisione 5 potresti trovarle per me dopo gettale su quella piastra d'oro e riceverai la mia ricompensa e se ci gettassi il lingotto o se aprissi direttamente quella no non è una cesta mi stai dicendo che quella non è una cesta what the fuck no è un blocco di terra no scusate sorry me andiamo a recuperare queste 5 cose io ne approfitto per parlarvi d'altro sapete che mi hanno aumentato la connessione era 6 e adesso arriviamo fino a 14 quasi uno da upload se è una cesta di merda e per me è uno da upload è un bordello assù stai scherzando dimmi che scherzi are you seriously? ah buono buono golden nugget ah non era golden nugget è d'oro perchè non è golden I hate this world I hate all the world yes my English capacity is over 9000 so and what the fuck mi sono perso si sono andato totalmente a caso prima o poi le ue amico mio oh si così si così si così già durerà secoli questo episodio però wow dimezzerò il caricamento dei video all'inizio era praticamente ve lo dico 6 quando ci arrivavo quindi solito erano di torno ai 4 e col mio apparecchio in camera mia ne arrivava più o meno 2 di download davvero si così ma che culo e 2 potete capire che i video ci caricava di merda di un download non ci credo l'upload non ve lo immagino potete immaginarvi lo schifo che era una volta sono arrivato allo 0 ma ce ne sono più di 5 se no è impossibile non posso averle trovate tutte così tanto a culo oh oh buono 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 pensavo fosse una cosa molto più impossibile dove la scava perfetto quindi questo tipo di episodio mi sta piacendo però nè nè cucu 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 tutto qui vabbè there is no bad però se le ributto se le ributto tre cucu 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 nada perfetto ciao man è stato bello aiutarti ora come si esce da qui ah tanto per finire questo episodio c'era una grotta qua che io non ho mai visitato potrebbe essere carino andarci grotta infuocata ok mi dispiace non volevo oh un altro tesoro raro dai che forse l'abbiamo finiti dai botton botton please perfetto ah boh ho trovato anche il tesoro raro quindi posso decretare conclusa totalmente questa serie volevo fare anche una puntata dove trovo tutti i diamanti ma onestamente non ho la minima voglia i vari video contro voglia non è bello anche ho notato che siamo arrivati a 114 iscritti non so se è 114 o 115 perché io sono andato via tre giorni dal mercoledì sera proprio sera quindi mercoledì ho seguito gli aggiornamenti ed eravamo 110 dopo una settimana orribile in termini di iscritti e sono arrivato il proprio la mattina presto del la sabato oggi è oh mio dio quanti messaggi della domenica quindi oggi quindi stamattina sono passati giovedì venerdì e sabato in tre giorni siamo arrivati a 114 e adesso penso siano 115 perché ne è comparso uno nelle iscrizioni non mi è arrivata nessuna notifica nulla però è comparso o se ne è andato uno è arrivato lui e siamo in pari o non lo so youtube è buggato come una morte ma questo già lo sapevamo quindi io vi saluto e voglio farlo scusate nel finale fatemelo fare basta sti messaggi di mer un altro neanche perché non lo scrivete sul gruppo perché uno era ciao Debe 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 ciao che bello Debe arrivederci dove è Debe 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 gli altri che mi scrivono Debe comandato latino che son passato di latino son passato è andata bene la versione quindi sono in terza yeah altri che scrivono non lo so perso non lo so domani vi riveto basta sti messaggi di merda ce l'ho fatto sì no ciao a tutti grazie critica grazie grazie a tutti